Sono stufo e stanco di pagare cifre ridicole per un appartamento minuscolo. Angusto e squallido che non ha quasi nessun comfort. L'affitto è aumentato così tanto negli ultimi cinque anni che a malapena riesco più a permettermi di vivere in questa città. È scandaloso come i proprietari e gli agenti immobiliari stiano sfruttando la crisi immobiliare e spremendo fino all'ultimo centesimo da persone che lavorano duro come me. Sapete quanto è aumentato l'affitto negli ultimi cinque anni? Secondo le ultime statistiche. L'affitto medio per un appartamento con una camera da letto in questa città è attualmente di 2.500 dollari al mese. Si tratta di un enorme aumento del 66% rispetto a cinque anni fa. Quando era di soli 1.500 dollari. Ciò significa che devo pagare 12.000 dollari extra all'anno solo per avere un tetto sopra la testa. E' più della metà del mio reddito annuale. E cosa ottengo per questo prezzo esorbitante? Un appartamento squallido. Ammuffito e rumoroso in cui a malapena c'è un letto. Un divano e una scrivania. Una cucina senza ripiano. Senza lavastoviglie e senza forno. Un bagno con un rubinetto che perde. Uno specchio rotto e uno scarico intasato. Un balcone che si affaccia su un cassonetto. Su un parcheggio e su una strada trafficata. Un edificio senza ascensore. Senza lavanderia e senza sicurezza. Un quartiere che non ha parchi. Negozi e cultura. Questo non è vivere. Questo è sopravvivere. E non sono l'unico a sentirsi così. Migliaia di persone in questa città affaticano a pagare l'affitto e ad arrivare a fine mese. Molti di loro devono svolgere più lavori. Ridurre le spese o trasferirsi presso coinquilini o parenti. Alcuni di loro sono costretti a ricorrere al cush surfing. A vivere in macchina o a dormire per strada. Non è giusto. Questo non è giusto. Questo non è umano. Meritiamo di meglio. Meritiamo di vivere in case dignitose. Convenienti e confortevoli. Meritiamo di avere accesso a servizi. Strutture e comodità di base. Meritiamo di avere voce in capitolo su come viene gestita la nostra città e su come è regolato il nostro mercato immobiliare. Meritiamo di avere dignità. Sicurezza e felicità. Dobbiamo alzarci e lottare per i nostri diritti. Dobbiamo esigere che il governo, i proprietari e gli agenti immobiliari smettano di sfruttarci e inizino a rispettarci. Dobbiamo organizzarci. Protestare e presentare petizioni per il cambiamento. Dobbiamo far sentire la nostra voce e sentire la nostra presenza. Dobbiamo riappropriarci della nostra città e delle nostre vite. Non siamo affittuari. Siamo residenti. Non siamo clienti. Siamo cittadini. Non siamo numeri. Siamo persone. E non lo accetteremo più.